... Resta sempre in primo piano il dibattito sulle riforme istituzionali. Nel PD ci sono scintille tra maggioranza e minoranza, mentre Forza Italia avverte il governo senza un segnale chiaro. Putin non è certo una sorpresa, continua a sostenere il presidente Assad, mentre Obama esclude che possa essere un interlocutore. L'Europa ha ribadito la richiesta di ridurre la tassazione sul lavoro e aumentare di più la casa e i consumi. Ma la Corte dei Conti esprime dubbi sull'andamento delle entrate fiscali che potrebbero essere inferiori a quanto previsto. Ma c'è anche una notizia. L'attualità vi confonde? Non avete capito l'ultima grandiosa riforma di governo? Oppure semplicemente non volete farvi prendere in giro dalle balle che dicono nei talk show? Rivolgetevi a noi. Fateci le vostre domande scrivendole qui sotto, nei commenti oppure in altro modo e noi tenteremo di rispondervi il prima possibile. Pubblicheremo dei video periodici con le nostre risposte sintetiche a tutto ciò che chiedete. Non fatevi problemi, contribuite anche voi a muovere le idee.